Buongiorno da Telpress Italia. Primo piano nota stampa di venerdì 16 luglio. Tra i temi della difesa su Tanea, il più diffuso quotidiano greco, l'intervista al ministro della difesa Guerini, si parla anche del rafforzamento tra Italia e Grecia della cooperazione nell'operazione Irini per il controllo dell'embargo sulle armi in Libia. La cooperazione nella missione Irini ha confermato ulteriormente il profondo legame tra Italia e Grecia, con una visione condivisa sulla necessità di giungere alla stabilizzazione duratura e sostenibile della Libia, ha detto Guerini, che ha aggiunto la cantieristica italiana e lo dico con orgoglio ha dimostrato negli anni la sua dimensione di assoluta eccellenza, non solo nel panorama nazionale ma anche al di là dei nostri confini, lo dimostrano i numerosi ordini che l'Italia riceve da molti paesi nel mondo. Difesa, doppio accordo con l'Unione Europea per Eurodrone e il software Essor. Su sole la firma, arrivata ieri a Roma, dei due importanti accordi con i quali la Unione Europea ha assegnato finanziamenti per lo sviluppo dei programmi Eurodrone, 100 milioni di euro e del software per la comunicazione sicura via radio per forze armate Essor, 37 milioni con fondi dell'IDIT. Leonardo ritorna nello spazio. Dallas Alenia Space Italia si è aggiudicata la commissione per costruire i primi due moduli pressurizzati della nuova stazione spaziale e commerciale Axiom e sempre ieri Leonardo ha siglato un accordo con il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Aeronautica Militare per il volo umano nello spazio e in particolare nell'orbita bassa terrestre, così scrive Libero. Su tempo la sigla del protocollo tra i ministri Franceschini e Guerini per la valorizzazione dei musei militari. Guerini ha detto che l'attività di valorizzazione del patrimonio museale militare italiano rappresenta per il Ministero della Difesa un dovere prima di tutto, non solo nei confronti dei militari ma di tutti i cittadini italiani cui consegniamo un patrimonio di valori e tradizioni che dobbiamo difendere e tramandare alle nuove generazioni. Su agenzia Anadolu, l'incontro tal ministro della difesa Guerini e l'omologo turco Alusia Kar. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal Ministero della Difesa nazionale, nell'incontro avvenuto ad Istanbul sono stati affrontati temi bilaterali e relativi alla difesa e alla sicurezza regionali, oltre che gli ultimi sviluppi registrati in Afghanistan, Libia e Mediterraneo orientale. Le dichiarazioni rilasciate parlano di un incontro costruttivo e positivo. L'ammiraglio Carlone, nominato a capo delle Capitanerie di Porto sul secolo XIX e Gazzetta del Mezzogiorno, via libera del CDM, la nomina su proposta del ministro della difesa Guerini e del ministro delle infrastrutture Giovannini a comandante generale del corpo della Capitaneria di Porto dell'ammiraglio espettore del ruolo normale del corpo delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone, con contestuale conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo. Sul cittadino di Lodi la soddisfazione del ministro Guerini per l'approvazione avvenuta ieri alla Camera della risoluzione della maggioranza sulle missioni internazionali, con 438 voti a favore, 2 contrari e 2 assenuti. Sono molto soddisfatto del voto espresso dalla Camera dei Deputati, ha commentato il ministro. Un consenso così ampio e trasversale significa, da un lato, che c'è condivisione di fondo sulla strategia del governo sulla tutela degli interessi nazionali di sicurezza e sugli impegni militari nelle regioni in cui siamo presenti e, dall'altro lato, è un importante sostegno a tutti i nostri militari impegnati in missioni difficili e che dimostrano quotidianamente professionalità e dedizione. La presenza femminile nell'arma è un punto di forza dei carabinieri. Su tempo, la conclusione avvenuta ieri a Roma del Woman 20 Summit, un momento di incontro e confronto tra esperti e istituzioni affiancato al vertice G20, presieduto dal 1 dicembre 2020 dall'Italia, per mettere al centro il tema della valorizzazione del potenziale femminile. La presenza femminile è oggi un punto di forza dei carabinieri, un percorso che risale nel tempo, ha spiegato il capitano Sara Serafino, che si occupa di pari opportunità e di prospettiva di genere al Comando Generale dell'Arma. Su avvenire e altri quotidiani, Libia, il sì sbagliato. La Camera conferma i fondi alla Guardia Costiera che tortura i migranti, secondo la Presidente Boldrini, una pagina che era da chiudere e per Del Rio comunque un progresso. La Camera rinnova il finanziamento alle strutture di Tripoli con l'impegno a trasferire all'Unione Europea la cooperazione, contrari in 54, no alla risoluzione per lo stop di 30 deputati. Tra i temi esteri, giustizia e diritti LGBTQ, su Bruxelles lo spettro di una exit sovranista su Repubblica e altri governi di Polonia e Ungheria, da tempo sotto accusa per violazione dello Stato di diritto, hanno imboccato un percorso che ha come traguardo l'incompatibilità dei due paesi con l'Unione Europea. Polonia e Ungheria violano i diritti LGBT, ora l'Unione Europea apre la procedura di infrazione, scrive Stampa. Virus, boom di casi in vacanza, l'alert della Farnesina, viaggi all'estero rischiosi, scrive Messaggero e altri quotidiani. Ogni spostamento può comportare un rischio di carattere sanitario, ha spiegato il Ministro degli Esteri. Nel caso in cui, se risultasse positivi al test per il Covid-19, vanno seguite le norme disposte dalle autorità locali. Intanto il Green Deal spacca l'Europa, scrive Repubblica, Roma e Parigi chiedono modifiche, duro scontro a Bruxelles sul pacchetto verde. Germania, travolta dal fango, decine di morti, Merkel sconvolta, scrivono Messaggero, giornale Tutti, piove ininterrottamente da giorni, una diga, a rischio crollo, gente sui tetti portata in salvo dagli elicotteri, tre città evacuate, decine di vittime dispersi, danni anche in Belgio e in Olanda. La cancelliera Merkel si è detta scioccata dall'entità del disastro e ha promesso tutti gli aiuti necessari da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni. In maltempo ha rilanciato il tema, già molto alto nell'agenda elettorale dei partiti, del cambiamento climatico. Su Messaggero, Putin e l'ordine agli 007, Trump è manovrabile, aiutamolo a vincere. La cancelliera tedesca Merkel ha incontrato ieri Biden nello studio Vale. Nel suo ultimo viaggio americano, prima di abbandonare la carriera politica, Merkel non ha nascosto l'incertezza che continua ad alleggiare in Europa, e cioè che Trump possa tornare al potere e l'alleanza transatlantica sprofondare di nuovo nel gelo degli ultimi anni. L'incertezza continua degli alleati verso l'America spiega quanto sia rilevante il documento segreto del Cremlino, rivelato ieri dal quotidiano britannico The Guardian. L'ultima missione di Merkel rafforza l'asse con gli Stati Uniti. Biden, un'alleanza di ferro, scrive Giornale. Su Repubblica, la proposta al congresso di Washington, Biden segue l'Unione Europea, una tassa sull'import dai paesi che inquinano. L'America insegue l'Europa sulla carbon tax alla frontiera, il dazio ambientalista. C'è pure il reddito di immigrazione. Su Giornale, l'allarme immigrazione. Il Viminale stanzia 44 milioni. Ogni arrivo ci costerà 26 mila euro per sei mesi. Lotta all'obesità, Londra pensa a una tassa su sale e zucchero. Lo consiglia lo studio della commissione voluta dal governo, ma Boris nicchia, scrive Giornale. Tra i temi dell'economia, lo scudo del governo per il lavoro, cassa gratuita e le aziende in crisi, così stampa via libera in CDM, 13 settimane di cassa integrazione per l'ex Silva e sei mesi all'embaraco. All'aeroporto di Napoli la rabbia degli addetti Whirlpool. Il gruppo Dialoghiamo. Il ministro Orlando, intervistato da stampa, dice ora basta delocalizzazioni, sanzioni alle multinazionali in fuga. Il ministro del lavoro aggiunge più severi con le imprese che hanno ricevuto sussidi. Sui licenziamenti, difficile tornare indietro. Lavoro. Il governo allarga il paracadute, scrive il Corriere. Più cassa integrazione per Embraco e Ilva. Tra i temi, in primo piano anche la nuova l'Italia. Secondo libero la Unione Europea la fa volare a bassa quota. Via libera della Commissione Europea la nuova società, ma si salvano soltanto 52 velivoli, 61 rotte e la metà dei dipendenti sugli attuali 11.000. I sindacati non ci stanno. Piano inaccettabile. Il governo ci convochi. Pareggio operativo entro il 2023. Il sole si concentra intanto sul centro Italia. Il commissario post-terremoto sblocca opere per 520 milioni. Legnini firma le ordinanze speciali. Inderoga al via 220 lavori pubblici necessari anche per riavviare la ricostruzione privata. Ed infine per la politica. L'obbligo Green Pass entro fine luglio, sì, per treni aerei, il nodo dei ristoranti. Così scrive Corriere insieme ad altri quotidiani. In arrivo il decreto sul certificato, martedì cabina di regia del governo, sarà introdotto per le cene solo se servirà ad evitare la chiusura dei locali. Sono prevalentemente non vaccinati e con una dose sola i nuovi ricoverati e le vittime. I medici raccontano molti sono Novax, che non si sentivano in pericolo. La conferma dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo il messaggero, il virus corre RT sopra l'1%, poi sottolinea che il Green Pass nei ristoranti sarà introdotto solo in caso di decollo dei contagi. La campagna vaccinale rallenta, crollo delle prime dosi, meno 73%. Libero segnala, sospensione a raffica per i medici Novax. Ieri altri 177 sanitari sanzionati, ma tanti dottori continuano a rifiutare il siero. E gli italiani seguono il cattivo esempio, calo drastico delle prime dosi. Chi non si vaccina e perché, si chiede il QN, resistono prof, sanitari e over 60. E per quanto riguarda la scuola, il CTS dà parere favorevole. Niente distanziamento per gli alunni vaccinati. Via le restrizioni solo di fronte ad una forte presenza di ragazzi immunizzati. La campagna di profilassi sui più giovani avanza lentamente. Sì al Green Pass, ma non per bar e ristoranti, ma è più didattica a distanza. Così Mara Carfagna, intervistata da Repubblica. Tra gli scenari politici, i temi primo piano e segnali di distensione nel Movimento 5 Stelle, tregua con Grillo, Conte può cominciare la guerra sulla giustizia, riportano Messaggero e tutti. La guerra interna, però, fa perdere voti ai 5 Stelle. Scende anche la fiducia per Conte. Così l'Atlante politico ha cura di Ilvo Diamanti su Repubblica. Il Movimento al 15% è in calo di altri due punti. Record di consensi per Draghi. Lega, Fratelli d'Italia e PD in gara per il primato. Ma solo Meloni cresce. I quotidiani, per quanto riguarda il centrodestra, segnalano l'ira di Meloni sulla Rai. La leader di Fratelli d'Italia chiede la vigilanza, soldi nel merino dei partiti. Didi alle Zanne, i dubbi nel PD, l'ultimo pressing su Letta per mediare Correnzi, scrive Repubblica. Una buona giornata da Telpress Italia.